Ed entri il re della gloria, della gloria, ed entri il re della gloria. Ne avete sicuramente riconosciuti il coro della parrocchia San Gabriele della Dolorata, diretto da Simone Micinilli. Simone, quest'anno voi siete stati i vincitori della scorsa edizione, ma quest'anno partecipate? Al momento non posso rilasciare dichiarazioni, ma lo scoprirete nella prossima puntata. Allora non potete perdere la prossima puntata su Radio Più, mercoledì alle ore 19.10 su Radio Più Rock e in replica alle 22.10 su Radio Più Classica. Io sono curiosissima, lo voglio sapere. Vediamo, vediamo.